Nero Giardini, collezione Uomo, primavera estate 2014, codice articolo P402430U, tomaia trimateriale su vase grigio, velour cenere e infine su vase ivory, come vedremo. Prezzo di vendita al pubblico 129,50€. Si tratta di una sneakers a mezza altezza con tomaia in pelle, colore grigio, inserti in camoscio grigio e inoltre inserti colore ivory che è una pelle colore panna. Guardiamo il lato interno della tomaia, le cuciture in questo caso sono a contrasto, la forma, sul lato esterno della tomaia troviamo il logo metallico applicato Nero Giardini. Infine, caratteristica importante, questa zip completamente apribile che serve per facilitare la calzata. Internamente la tomaia è in pelle microforata, il sottopiede è in pelle anch'esso ed è estraibile, alto circa un centimetro. Concludo precisando che la suola è in gomma alta 2,5 cm ed è completamente personalizzata Nero Giardini.